Musica Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per questa ultima rassegna stampa della settimana Siamo arrivati a sabato e guardiamo naturalmente le giornate come saranno oggi e domani per le previsioni del tempo e anche il santo del giorno prima di iniziare a sfogliare i quotidiani Vediamo oggi sabato 18 febbraio, Santa Costanza di Vercelli, il sole è sorto alle 7.01 e tramonterà alle 17.42 Giornate sempre più lunghe quindi cominciamo ad andare verso le giornate più estive Allora, nuvoloso nottetempo e al primo mattino con schiarite sempre più ampie nel corso della mattinata ad iniziare dal peserese e in progressione e estensione verso il resto del territorio quindi una inizialmente situazione di nuvolosità però fin dalle prime ore della mattina ci sarà ampia schiarita nei nostri cieli, precipitazioni sparse durante le ore notturne e al primo mattino anche a carattere di rovescio però le temperature sono in diminuzione specialmente nei valori massimi e quindi insomma inizialmente una giornata un po' all'insegna del maltempo ma poi nel corso della mattinata andrà migliorando le previsioni invece per domani domenica vedete sole pieno nella provincia di Pesero e di Ancona, poco nuvoloso nel resto della regione precipitazioni assenti, temperature in diminuzione nei valori minimi per lunedì la situazione è esattamente a fotocopia rispetto a quella di domenica quindi tutto sommato ci aspetta un fine settimana abbastanza tranquillo dal punto di vista del tempo tanta cronaca nei giornali e anche un po' di carnevale naturalmente e quindi iniziamo subito a vedere che cosa il resto del Carlino e Corriere Adriatico pubblicano questa mattina partiamo subito dalla operazione di polizia che è partita dall'inizio delle mese e ha portato all'arresto di questo spacciatore così impattante sul tessuto sociale perché smerciava veramente quantità importanti di stupefacente parliamo di cocaina, è nella pagina di Pesero del Corriere Adriatico ma è un'operazione che riguarda anche il territorio di Fano anzi questo spacciatore risiedeva a Fano 100.000 euro al mese era il ricavato dello spaccio di cocaina di qualità purissima la polizia ritrova tutta l'area furtiva in una camera di un albergo un panetto quasi di 600 grammi per questo artigiano questo artigiano che lavorava appunto nel Fanese 62 anni già finito in manette due settimane fa però gli inquirenti gli sono stati accollati e insomma si preparava a fuggire ma intanto continuava a spacciare lo stupefacente e quindi insomma non è stato mollato dagli agenti della Mobile e del commissariato di Fano e quindi è stato assicurato alla giustizia veramente stupefacente di qualità così il prezzo resta alto questa era la sua fetta di mercato che si era ritagliata perché appunto era ricercato per questa purezza nello stupefacente che smerciava e quindi aveva dosi che costavano dagli 80 ai 120 euro e quindi insomma in base al quantitativo che gli è stato trovato in possesso si fa presto a fare il calcolo e quindi insomma quasi praticamente 100.000 euro al mese se calcoliamo insomma quello che riusciva a smerciare insomma quindi assicurato alla giustizia un importante spacciatore della zona che adesso non c'è più e quindi insomma meno droga in circolazione Pesaro, andiamo a Pesaro con il Corriere Adriatico vi dicevo tanta cronaca auto a fuoco, casa inagibile i residenti fatti sgombrare siamo nella zona del quartiere di Pantano in via Scialoia queste sono le immagini di come insomma la palazzina è stata ridotta le fiamme sono state prontamente circoscritte dai vigili del fuoco hanno evitato in questo modo che si propagasse l'incendio ai piani alti della palazzina però tutto quello che c'era nel capanno e nel garage è andato a fuoco presa anche la banda dei furti, dei finti avvocati quelli che telefonavano a casa degli anziani fingendo l'incidente quindi insomma era questa sicuramente una piaga anche del nostro territorio presa la banda dei finti avvocati sei arrestati 24 truffe agli anziani pensate un po' 100.000 euro di bottino colpi anche a Fossombrone in tutta la provincia cercavano di farsi dare i soldi fingendo appunto un incidente del figlio del nipote insomma o di altri componenti della famiglia andiamo a Urbino con il Corriere Adriatico la politica tiene più banco nella pagina di Urbino del Corriere Adriatico se ne parla da diverso tempo tra Ersu e anche di atribi interne alla Giunta tradito il programma Urbino il centro raccoglie i dissidenti del centrodestra che dicono adesso basta finiscono sotto accusa il primo cittadino e anche i consiglieri addirittura sono peggio dei predecessori questo è il pensiero dell'opposizione però dicevo cronaca molta cronaca anche Urbino raid in una notte ripulite scuole comune e bar razzia siamo a Pian di Meleto in gente bottino aperta anche la cassaforte dell'istituto statale e quindi non risparmiano niente andiamo a Fano col Corriere Adriatico si parla di sanità alternativa all'ospedale unico Seri ancora non svela le carte tiene tutto sotto banco a Santa Croce devono restare chirurgia e medicina d'urgenza per 24 ore incalzano le opposizioni ma il sindaco ribadisce Muraglia è una scelta sbagliata l'assessore Paolini è incaricato di studiare tracciati per una nuova strada verso peso quindi per rimettere rimettere insomma più in comunicazione quell'area eventualmente dove si farà nuovo ospedale con il nostro territorio parcheggio o parco siamo nell'area dell'ex Agip che insomma non si decide su quest'area quale destino dovrà avere in questi giorni la vediamo nelle immagini anche del carnevale con insomma tutte le transenne attorno insomma non è sicuramente una bella una bella immagine anche per i turisti che ci vengono a vedere ma insomma vedremo quali saranno le prospettive per questa per questa per quest'area abbastanza insomma centrale una porta d'ingresso di Fano dicevo anche il carnevale presente nelle pagine dei giornali creatività l'infa vitale così anche lo sport dà l'esempio per questa settimana all'insegna appunto dello sport e della creatività che è il tema di questa settimana del carnevale madrina d'eccezione la vedete nella foto Valentina Vezzali campionessa olimpica ad Atene 2004 anche nel judo un atleta di casa nostra era presente Lucia Morico medaglia di bronzo insomma quindi è una presenza importante quella dello sport in questa settimana quindi domani ci sarà la sfilata naturalmente a partire dalle ore 15 in Viale Gramsci con tante novità Valcesano un mezzo milione già stanziato a marzo la gara per l'intervento raccolto raggiunto l'accordo con i privati sui lavori per chiudere la voragine siamo a Orciano quindi buone notizie speriamo che questa incompiuta una delle tante oltre al ponte dei conciatori incompiuta del nostro territorio veda perlomeno l'inizio dei lavori e poi insomma vediamo i tempi che si prospettano il comune di Orciano prima di sciogliersi aveva deliberato varie opere pubbliche tra cui appunto questa spendono banconote false siamo sempre nelle pagine dell'interno del Corriere Adriatico ingannati da diversi ingannando scusate diversi esercenti però sono stati rintracciati i carabinieri di Marotta si sono messi sulle loro tracce sono due campani che però si sono dati alla macchia sono scappati ma sono stati individuati dai carabinieri grazie anche alle segnalazioni e ai riconoscimenti di alcuni esercenti appunto che erano stati truffati dai due con queste banconote false di taglio che andava dai 20 ai 100 euro Senigallia rivuoi l'auto fuori i soldi poi gli tira un pugno in faccia commerciante aggredito in pieno centro storico da uno straniero ubriaco questo è il commento che si fa a latere per questo articolo da diverso tempo segnaliamo in città che esistono zone a rischio questo è il pensiero di Marcello Liverani coordinatore di Fratelli Italia Alleanza Nazionale tolleranza zero però un extra comunitario ubriaco gli ha rotto il naso dopo avergli rubato le chiavi della macchina chiedendogli 100 euro per restituirgli un gergo questa tecnica anche se questa era un po' arraffazzonata si chiama cavallo di ritorno ti porto via l'auto te la rubo te la faccio sparire poi ti telefono dico se la vuoi dammi soldi una tecnica che alle volte si è verificata anche qui nella nostra zona che ci hanno spiegato molto bene le forze dell'ordine a Senigallia di altro tono questa notizia al parcheggio un nonno con due prostitute e ha detto ho dato un passaggio facevano l'autostop questa è la sua laconica dichiarazione andiamo nel resto del Carlino archiviamo il corriere adriatico e anche qui Bracci non spente l'incendio l'incendio in via Scialoia Bracci rubato non spente brucia a casa distrutta auto e infiamme in un'abitazione danni dal fumo altri sono naturalmente gli locali interessati vedete qui nelle foto e questa è la foto del resto del Carlino che ritrae appunto l'auto nel capanno come si è ridotta per il fumo qui c'è la padrona di casa e questa è insomma l'abitazione invasa dal fumo danni estesi un rischio grave che si è corso appunto in via Scialoia se non si fossero accorti subito delle fiamme e i pompieri non fossero arrivati così prontamente sicuramente sarebbe andato a fuoco l'intero edificio ma si parla anche di politica però sotto un'altra veste nelle pagine di Pesaro in primo piano perché un partito non c'è più di esse ma i debiti sì perché c'è la sede all'asta sei immobili tra sedi bar e circoli un condominio si è anche rivolto al giudice subito dopo a Banca Marche Unipol e BCC vi faccio vedere la pagina che riguarda Fano per una bella operazione che sta avendo luogo nella città di Fano già da diverso tempo l'illuminazione quasi tutta a led dell'illuminazione pubblica stiamo parlando naturalmente presentato insomma il progetto 1000 led e presto anche le strisce pedonali della cintura attorno al centro storico diventeranno più evidenti più brillanti quindi insomma soprattutto nelle ore notturne crepuscolari si attraverserà in sicurezza prosegue appunto il relamping della città con ditte italiane vedete l'assessore Cristofianesi già appaltati da parte di Aset i lavori per via Battisti e insomma il cavalca ferrovia in quella zona Aset continuerà a occuparsi dell'illuminazione pubblica fino al 2034 questo è il termine del contratto ma l'operazione di 1000 led sarà terminata nel 2018 quindi in due anni avremo un risparmio del 50% di bolletta energetica e soprattutto anche di consumo di energia elettrica poi andiamo a San Costanzo perché oggi è il giorno il Bomba Day possiamo dire praticamente ecco vedete evacuati i negozi a 300 persone i militari del genio del genio di Bologna all'opera questi sono i cassoni che vengono riempiti con la sabbia dove si questo è il questo è il cratere qua dentro c'è praticamente in questo buco qui c'è la bomba d'aereo di 100 kg che verrà completamente avvolta da questi da questi gabbioni protettivi e poi si porterà via la spoletta e si farà brillare in una cava nelle prime ore del pomeriggio andiamo a Urbino con il resto del Carlino l'unica pagina l'ultima pagina che vi faccio vedere e la lista si parla di politica CUT attacca soldi con le multe l'opposizione dice i proventi delle azioni di MMS spesi male nessun progetto di respiro bilancio e crisi del turismo il sindaco Gambini fa il punto di metà mandato con i cittadini e quindi insomma questo è l'articolo principale della pagina di Urbino del resto del Carlino era l'ultima che vi facevo vedere la rassegna stampa di sabato termina qui naturalmente Occhio ai giornali torna lunedì mattina puntualmente alle 7.30 come sempre per aprire l'informazione di Fano TV canale 17 grazie per averci seguito fin qui naturalmente un buon fine settimana a tutti voi e buon carnevale visto che siamo a Fano e il carnevale è di casa in queste settimane arrivederci alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.